14 milioni di euro per gli ITS in Abruzzo e gli istituti tecnologici superiori, che sono 6. L'assessore alla formazione della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, ha presentato i nuovi avvisi 2021-2027 per creare nuovi profili e dunque nuove professionalità da inserire nel mondo del lavoro. Da oggi si potrà fare domanda. L'occasione è stata utile anche per presentare il piano educativo 06 anni, per il quale ci sono invece 3 milioni, un piano importante perché si vogliono abbassare le rette per le famiglie. Si trattano delle prime misure che mettiamo in campo nell'ambito della nuova programmazione europea 2021-2027. Come diceva lei, la prima misura riguarda gli ITS, con oltre 13 milioni. Vogliamo dare impulso a questa scuola superiore affinché si possano avere nuovi profili da inserire nel mondo del lavoro. Come sapete, l'ITS è una realtà importante, ce ne sono 6 in Abruzzo, in diversi settori. L'ultimo è quello che è sorta a Mociano. Noi vogliamo creare profili che possono essere inseriti nel mondo del lavoro in maniera più agevole. Oltre 13 milioni da oggi si possono fare domande, quindi sicuramente è molto importante affinché si possa andare incontro alle esigenze di tante persone. L'altra misura che mettiamo in campo è di oltre 3 milioni, riguarda i servizi per l'educazione e l'infanzia. Vogliamo migliorare il servizio, vogliamo adeguarlo alle nuove esigenze, ma soprattutto vogliamo abbassare le rette alle famiglie perché le famiglie non riescono ad avere sostegno economico e quindi con questa misura cercheremo di abbassare le rette perché ormai i genitori lavorano entrambi. È necessaria questo tipo di scuola, quella dell'infanzia, gli assi di nido. Si tratta dei primi due bandi che rientrano nella programmazione Fondo Sociale dopo che la Comunità Europea ha dato l'ok. Tutta la progettualità monta a circa 400 milioni. Sono le prime misure dei sette bandi che partiranno a breve.